Sono in corso di ultimazioni preparativi per Pentium Run, l'evento colorato organizzato dal clan La Carovana del gruppo scout del Fenza 1 come una festa per tutta la città prevista per domenica 3 settembre. Nel pomeriggio si tratta una corsa colorata non competitiva aperta a tutti, compresi bambini e famiglie, con partenza dal parco di Via Calamelli. I partecipanti percorreranno il ribalino dell'Amone e all'altezza del centro Marconi raggiungeranno Via Marconi per poi tornare indietro, imboccare il Viale dello Stradone, raggiungere Via degli Insorti e percorrendo Via Canal Grande arrivare al traguardo alla punta degli orti. Qui, terminata la corsa, inizierà la festa vera e propria. Ci sarà la possibilità di mangiare e di partecipare a varie iniziative. Sono una ventina gli sponsor che hanno già aderito, la maggior parte proveniente dal territorio, mentre in questi giorni gli scout stanno raccogliendo le adesioni di diverse associazioni. È il secondo anno consecutivo che la corsa colorata si svolge a Faenza. L'anno scorso l'idea partì dall'associazione Scaramacai. Quest'anno invece sono stati gli scout a volerla progettare come autofinanziamento per la loro nuova missione in Africa nel 2018 a sostegno della popolazione locale. Noi facciamo questo evento per autofinanziare la nostra route del prossimo anno in Africa. Abbiamo deciso di fare questo evento che certo non è semplice da realizzare e anche molto importante per tutta la città, però volevamo fosse qualcosa che coinvolgesse la città e non fosse qualcosa di chiuso invece magari nella nostra parrocchia, che non fosse un aperitivo che portasse solo amici, ma che fosse qualcosa per tutta la cittadinanza, che coinvolgesse giovani, associazioni, negozi, per far qualcosa, anche un po' di contributo per il territorio. Che cos'è esattamente questa corsa colorata? Si tratta di una corsa colorata non competitiva e adatta a tutti, sarà lunga circa 5 km. Partiremo dal parco di Via Calamelli arrivando alla punta degli orti e durante questa distanza ci sarà a ogni chilometro un punto colore, dove verrà lanciato addosso ai partecipanti del colore in polvere in modo che poi alla fine siano tutti colorati. Colore in polvere, ma che colore è? Che cos'è esattamente? È un colore completamente lavabile, biologico, ecologico, che si lava, va via facilmente con una doccia. I colori saranno rosso, giallo, verde, blu e indaco e al termine della competizione ci sarà un momento in cui verranno lanciati per aria tutti i colori contenuti nella sacca del pacco gara per avere una vera e propria festa di colori. Ecco appunto, una vera e propria festa perché ci sarà una vera e propria festa alla punta degli orti. Che festa sarà? Allora, stiamo preparando una sorta di villaggio nel parco punta degli orti e stiamo coinvolgendo, ci saranno associazioni con i loro banchetti informativi, i loro volontari, ci saranno negozi che venderanno i loro prodotti però anche altre collaborazioni che ci hanno solo fornito i prodotti dalla cremeria Rossana, abbiamo una collaborazione con il Girasole, la Red Bull che ci sponsorizza, insomma ci sono molte realtà e quindi ci si aspetta una bella festa. Poi ci sarà della musica, faremo da mangiare, la Mocador che ci fornisce il caffè, insomma una sinergia di realtà del territorio per fare una cosa bella per i cittadini. Avete pensato anche a qualcosa per i bambini perché comunque è una corsa aperta anche ai bambini. Sì, l'evento è aperto a tutti, i bambini oltre ad avere un presto agevolato alla punta degli orti avranno intrattenimento apposta per loro, ci sarà infatti un trucco a bimbi e intrattenimento gestito da noi scout o comunque dai nostri genitori che ci aiutano a gestire l'evento. Scout e genitori che saranno impegnati lungo tutto il percorso per regolamentare la corsa, per aiutare appunto i corridori, giusto? Esatto, infatti nei momenti in cui sarà necessario attraversare la strada ci preoccuperemo di bloccare il traffico affinché i corridori possano attraversare senza doversi preoccupare del traffico mentre le macchine potranno circolare tranquillamente e dunque non ci sarà un blocco. Si parte da via Calamelli, si arriva a punta degli orti, la domanda è quindi io che vengo in via Calamelli poi come faccio a tornarci? Appunto si parte dal parco di via Calamelli, si arriva al parco punta degli orti quindi il percorso non è ad anello e appunto proprio per questo stiamo lavorando al servizio di navetta che verso la fine della serata posso appunto permettere ai partecipanti di tornare dal parco punta degli orti al parco di via Calamelli dove appunto probabilmente avranno lasciato la macchina o le biciclette o i loro mezzi. Ci si potrà iscrivere anche il giorno stesso della gara ma per chi si vuole iscrivere prima come fare? Si è consigliato iscriversi prima anche perché il giorno stesso non si può assicurare l'iscrizione in quanto abbiamo pacchi gara limitati e inoltre il giorno stesso costa 3 euro in più. Per iscriversi si consiglia di venire al banchetto che sarà i giorni 26, 30, 31, 1 e 2 settembre di fianco a Sant'Ippolito, dalle 10 alle 13 la mattina e dalle 16 alle 19 il pomeriggio. I biglietti costano interi 15 e ridotti 10, il ridotto è fascia d'età 6, 14 e 65 over. Mentre c'è l'offerta family, cioè due genitori più 5 euro a bambino, le iscrizioni si possono fare sia al banchetto come ho già detto che online, scrivendo una mail con i propri dati personali, paintoran.gmail.com e allegando la foto del bonifico oppure pagando con Satispay. Tutte le informazioni le avete racchiuse nella vostra pagina Facebook che avete creato? Esattamente, paintoran.faenza c'è sia la pagina Facebook che l'evento con tutti i contatti. A chi parteciperà alla gara fornirete anche un pacco gara, ma che cos'è questo pacco gara? Allora, all'interno del pacco gara troverete la maglia dell'evento, una lattina di Red Bull e una manzata di colore da lanciare appunto all'arrivo quando ci sarà la festa di colori e vari gadget che ci hanno offerto i nostri sponsor. Ovviamente la festa alla punta dei orti è aperta a tutti quanti, non solo a chi ha partecipato alla gara. Esatto, perché dopo lì essendoci comunque da mangiare, della musica, così diventa una sorta di sagra comunque aperta a tutti dove chiunque può venire, mangiare, insomma dopo diventa un evento aperto a tutta la città.